Musica Ancora un cordiale saluto, buongiorno a tutti voi cari telespettatori, siamo in diretta alle sette e mezzo per la rassegna stampa Occhio ai giornali. Allora oggi la Chiesa Cattolica ricorda la natività della Beata Vergine Maria, le Chiese d'Oriente e d'Occidente celebrano la nascita della Madre di Gesù, la fonte prima che racconta l'evento è il cosiddetto protovangelo di Giacomo secondo il quale Maria nacque a Gerusalemme nella casa di Gioacchino ed Anna. Il sole è sorto alle 6.39, tramonterà alle 19.32 minuti, il tempo previsto per oggi avremo cielo poco o irregolarmente nuvoloso ad eccezione dei settori interni e del settore centro-meridionale della regione nei quali il cielo sarà nuvoloso in particolare nella mattinata con maggiori schiarite dal pomeriggio. Sempre in mattinata avremo rovesci sparsi ancora nelle zone interne del settore meridionale della regione ma le temperature sono in aumento nei valori massimi ed in diminuzioni in quelli minimi. Andiamo a vedere la giornata di domani, quella di venerdì 9 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso, ancora rovesci sparsi ma solo nel sud delle Marche, le temperature in aumento, sabato 10 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature senza variazione di rilievo, le precipitazioni solo nel pomeriggio ma sempre nella parte interna meridionale della regione. Confermiamo ancora una volta il miglioramento del tempo per la giornata di domenica e l'inizio della prossima. Resta un mistero la morte di una donna che è stata trovata con una cintura attorno al collo. Il procuratore Andrea Boni, capo della procura di Urbino, dice che è una situazione da chiarire. Comunque questa donna di 51 anni di cui parla anche nella pagina 3 del carrivo di questa mattina è una situazione tutta da capire. Ci sarà oggi l'autopsia, si parla di un suicidio comunque ma con troppi dubbi. Stiamo parlando di Josefa Bozena, detta Eva, 51 anni, polacca in Italia ormai da decenni, un fratello a Lecco, una vita di lavoro senza mai una piega fino alla tragedia dell'altra sera che è avvenuta nel piccolo borgo di San Teodoro a Macerata, Feltria. La pagina di Fano invece è del resto del Carlino. Le terme di Carignano finiscono all'asta. Berloni ora chiede i danni al Comune in carico all'Avvocato Storoni per un risarcimento da 20 milioni di euro. Tutta l'area è stata divisa in tre blocchi, valore totale circa 2 milioni di euro. Poi l'iniziativa della Profiglass dove i lavoratori donano un'ora di lavoro ai terremotati e nella pagina di Fano sempre aeroporto, ma quale pista in cemento? Fermiamo l'emoragia. Il Comitato Bartolagio e i 5 Stelle sparano a zero, l'Associazione Il Gabbiano dice torniamo all'aviosuperficie. L'appello a cittadini grillini uniti nel chiedere al Sindaco l'entità reale delle perdite. Preso il pusher da 3 mila euro al giorno, tanto fruttava a un 36enne clandestino lo spaccio di eroina che effettuava in un canneto a Metauriglia di Fano. Il tunisino si presentava alle 10 del mattino e staccava alle 13. Ogni dose costava, la vendeva a 50 euro l'una. Rifugiati, ecco i primi 19. Scatta l'esposto a Pergola. Il Sindaco scrive al Prefetto e alla Procura. dice che manca l'inagibilità, riferendosi alla struttura dell'ex motel Magi, che ha una capienza come albergo di 104 posti, ma solo per 25 posti la struttura ha le caratteristiche tecniche ritenute necessarie dalla Prefettura. Per il Sindaco però manca comunque l'agibilità. Poi ricorderete la rapina l'altro pomeriggio a Lucrezia di Cartocelo, a Ponte Murello, un rapinatore che entra con gli occhiali scuri, poi il fucile nascosto nell'ombrello, insomma è stato preso. E sapete chi era? Era il vicino di casa della tabaccaia. Lo hanno arrestato ieri i carabinieri. L'uomo aveva portato via, raffando un po' così alla bene meglio, insomma, poco meno di mille euro. Andiamo a Fossombrone perché il Sindaco Bonci è andato nelle zone del terremoto. Il Sindaco di Fossombrone è andato ad Arquatta del Tronto con Claudio Contini e la Croce Rossa italiana. E' andato lì dicendo diamo sostegno a chi ha perso praticamente tutto. L'ultimo saluto, siamo nella pagina di Pesaro, a Giorgio Italiano, stroncato da un infarto in casa. Il 43enne pesarese era malato da tempo di diabete. Nato e cresciuto in centro storico, lavorava in una struttura per migranti. Le esequie con una funzione civile saranno celebrate oggi, giovedì 8 settembre, alle ore 15, nella Camera Mortuaria di Muraglia. Ma c'è spazio anche per i ringraziamenti a qualche giorno di distanza dal funerale di Massimo Natrelli che si è tenuto al Parco Miralfiore con i genitori che dicono che è stato un addio indimenticabile il ringraziamento della famiglia Natrelli. Il ragazzo è morto in un incidente stradale. Adesso andiamo sulla pagina di fame invece del Corriere Adriatico. Blitz nel canneto dell'eroina. In manette uno spacciatore tunisino guadagnava almeno 3.000 euro al mese. Agenti insospettiti dalla via vai nella spiaggia di Metauriglia. Nessuno andava al mare e quindi qualcuno si è domandato se questi non vanno al mare, tutto questo via vai, a che serve? E serviva per andare a fornirsi e rifornirsi di droga. 50 euro dicevamo poco fa quello che era il costo di ogni dose. Fucile in faccia, ero paralizzata dalla paura. La tabaccaia azzurra era già in vendita. Il racconto del titolare che è Nadia Castellani e che pubblica ed è pubblicato questa mattina sul giornale. L'operazione Casello di Fenile, il comune ingrana la terza dopo Marotta. L'ex zuccherificio si spera in una nuova sentenza favorevole. A questo punto non c'è due senza tre, speriamo che arrivi anche questa. L'amministrazione non intende perdere i 24 milioni di euro della società autostrade. Mentre il comitato Bartolagi, meglio fare il parco, dice la presidentessa Tonelli, dice basta i soldi elargiti a fondo perduto. Si riferisce evidentemente chiaramente all'aeroporto, la situazione non rosea dell'aeroporto di Fano. Che spettacolo invece di Brodetto? Si parte questa sera con Chef Show. Ecco tutte le novità del festival del Brodetto 2016. Oggi mister all'oro, domani i costardi. Guardate appunto che bel colpo d'occhio della zona mare invasa da tantissima gente per partecipare a questo appuntamento che richiama in città. Fanno tanta gente, tanti cultori di questo piatto che un tempo era un piatto povero, oggi invece è diventato un piatto cucinato da chef stellati. Nuove videocamera, i semafori, due rilevatori in alta risoluzione. Sempre a Fano saranno installati dalla fiorentina sodi scientifica che ha vinto il bando comunale. Saranno investiti 60 mila euro dei 72 mila assegnati al comando di polizia municipale. E sotto passeggi la rinascita, il simbolo del casottino, il parco pubblico è tornato ad essere uno dei punti di riferimento più amati. Ma attenzione la foto, la vedete, non è della preistoria, è foto attuale. È quel dinosauro che si trova allo spazio eventi dell'aeroporto di Fano dove c'è questo appuntamento, appuntamento per grandi e piccini. È una giornata tra Star Wars e Pokémon Go. A questo spazio eventi che c'è oggi e continuerà ancora fino a domenica. Il programma è organizzato dalla cooperativa Idea, scrive il Corriere Adriatico. Apriamo la pagina Fano Sport perché c'è l'ex Granata Giovanni Cornacchini, un percorso, è un passato anche nel Milan, fanese, chiaramente, che dice e rincuora l'alma dopo le due partite in cui ha perso, compreso il debutto. Pazienza, i numeri verranno. L'ex Granata esordì a Bergamo dove il Fano cerca oggi i suoi primi punti in Serie C. Tanti precedenti allo stadio Atleti Azzurri ma mai contro l'Albino Leffe. Questa è la notizia che troverete a pagina 47 del Corriere Adriatico. Vale del Cesano invece, invasione di prostitute, scatta la stangata, multe anche per i clienti. Ecco i divieti, in vigore da oggi l'ordinanza comunale a Mondolfo. Il vice sindaco di Ottalevi dice che la situazione è diventata indecorosa. Si sono spostate più a nord dopo le segnalazioni ricevute nella zona dell'Ipercop di Cesano. I residenti applaudono ma serve anche dell'altro, consensi a Sterpettine e Pianomarina, però è soltanto il primo passo. Questi residenti giustamente sono tutti contenti di questa ordinanza che vieta le prostitute di restare in strada, di prostituirsi in strada. Ed è questa sì una cosa che oltretutto è il simbolo del degrado di una città quando si vedono le prostitute in strada. Che stiano dentro gli appartamenti, che facciano quello che devono fare ma non in strada, davanti agli occhi di tutti. Migranti, la rabbia di Baldelli anche qui sul Corriere Adriatico, il motel Maggi non è a norma, il sindaco attacca il governo, ricostruisce i fatti e scrive alla Prefettura e anche alla Procura. E poi abitazioni e prova di terremoto, c'è un incontro a Orciano, questo è un incontro interessante che vi invito chi può ad assistere. L'appuntamento è alle 21 di questa sera a Orciano per conoscere le regole utili per capire se le abitazioni in cui viviamo sono sicure. A Senigallia invece Fagnani la sosta è un caso e con la ZTL sarà rebus totale, i dubbi dei genitori, stiamo parlando di un istituto, un istituto scolastico, i genitori sono preoccupati perché per riprendere i figli all'uscita delle lezioni alcuni hanno già chiesto il permesso per poter entrare. Alla Portona arriva Don Paolo Gasperini, Paolo Montesi lascerà Casine di Ostra e sarà il nuovo parroco della pace. Nel mirino degli evasori per le case delle vacanze, sempre a Senigallia, la Guardia di Finanza, 540 le abitazioni affittate, la finanza sta verificando i contratti. Tanti sono quelli che affittano le case per l'estate ma senza mettersi in regola con il fisco. Addio al professor Cellerino, fondò la scuola di oncologia Rossana Berardi, ha fatto crescere decine di medici che operano nelle marche. Chiudo con una riflessione che voglio fare insieme a voi, visto che ogni tanto si parla tanto di sessismo quando appaiono anche qui nella nostra città o nella nostra provincia manifesti dove la donna viene usata, nel vero senso della parola, per reclamizzare questo o quell'altro. Voglio vedere, mettiamo già le mani avanti, quanti si scandalizzeranno per questo manifesto che pubblicizza un film, Amateur Night, in uscita nelle sale cinematografiche americane. Probabilmente e forse arriverà anche in Italia. Quanti si scandalizzeranno nel vedere questa donna con una bella scarpa indubbiamente sensuale, che tra l'altro costa 350 euro, ci dice il giornale, che schiaccia, tra virgolette, un per niente infastidito uomo, chiaramente, però quando si tratta della donna che schiaccia la testa all'uomo, nessuno dice niente. Se ci fosse stata una donna al posto di quell'uomo, che cosa sarebbe successo? Buona giornata, riflettiamoci, arrivederci. Buona giornata, riflettiamoci, arrivederci.